Approfitto di questa assurda situazione in cui mi vengo a trovare con questa telecamera che mi punto da solo addosso per farvi i complimenti a voi che avete fatto questo festival perché era da tanti anni che non, faccio parte purtroppo per fortuna di varie giurie, ma era da tanti anni che non mi trovavo a vedere tanti film di quali forse solo uno o due ritengo assolutamente non degni della selezione. Non è facile fare un film tematico, un tema forte come il vostro e avere comunque così tanti film importanti. Io ho visto tanti film importanti e non c'è un film tranne un paio che non mi abbiano lasciato qualcosa dentro e che non è stato importante per me vederli, al di là del fatto che io poi possa essere un produttore interessato a come si gira, a come viene impostato un film, però voglio dire anche da un punto di vista dello spettatore, credo che avere visto tutti questi film ti arricchisce, quindi comunque devo dire che è stato un lavoro in questo momento per me complicato perché ho mille cose da fare, però che è stato interessante fare e approfitto di questa appunto, gli dico la situazione per farvi i complimenti.